Mary Jane ASMR Ciao ragazzi bentornati al programma tutti nel video di oggi ho deciso di unire Don't Clicking, Mount Sound e Mount Sound insieme a un visual trigger legato al led movement con questi quanti led che avete già visto sia nel live sulla piattaforma Lola che qui in uno dei miei video precedenti se vi interessa poi ve lo metto da qualche parte qua sopra, andate a vederlo una tipologia di video dedicata appunto al classico Don't Clicking, Mount Sound e al classico Head Movement ma con la variante luminosa voi non dovete far altro che indossare gli auricolari tenere il volume che più vi allieta rilassarvi e sognare se volete se volete se volete è fantastico unire a questo suono anche il suono dei guanti e se sfregano per ottenere un rulletito ok 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 Per il nostro canale è www.mesmerism.info Alla prossima 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 Alla prossima